L'ordine dello starter, premio Giardino Scott condizionata, che apre il poveriggio pisano di giovedì 17 dicembre. Tutti pronti? Partiti! Olskrick va su Fidaslemey, dall'esterno Mitch in perfetto stile branca. Fidaslemey rimane in corda, dietro Mitch e Olskrick in coda a contatto Undermind. Davanti Mitch di fuori Olskrick, di dentro Fidaslemey in coda Undermind, 3 contro 1 sulla curva, con Mitch che allunga da Olskrick, di dentro Fidaslemey in coda a tiro Undermind. Gresson addirittura, Fidaslemey decide di non stare lì e di provare il recupero. I tre della razza latina però sono tutte e tre avanti, con Mitch, Olskrick e Undermind che allungano da Fidaslemey. Con Olskrick che attacca a fondo Mitch che cala all'esterno Undermind e Fidaslemey. Fidaslemey, attenzione al recupero all'argo di Fidaslemey che sta scattando, cambiando azione. Fidaslemey agguanta. Olskrick. Ha cambiato azione Fidaslemey quando è stato libero di galoppare, è andato poi su Olskrick e gli ha messo il muso davanti, 1-3. L'immagine televisiva dà un vantaggio a Fidaslemey su Olskrick e per il terzo Undermind davanti a Mitch. 1-3. 5-4. 2-12 al tot nazionale. La quota di Fidaslemey è tutto. Grazie. Prima corsa del pomeriggio, Fidaslemey, Carlo Fiocchi, reincati i colori, il cavallo che vuole rientrare ma gli chiediamo un altro mezzo giro. Carlo, eri un po' in gabbia all'ingresso e addirittura d'arrivo. Sì, lui purtroppo è un cavallo un po' pigro e è normale, loro hanno fatto il loro gioco di squadra.